...che i fermi di polizia dappertutto probabilmente impediranno a tante persone di arrivare, saremo pochi, saremo tanti, non saremo nessuno, non c'è problema, tanto come qua a Ventimiglia, come in tutta Europa, per fortuna ci sono ancora persone solidali alle persone in viaggio e continueranno a esserci. Non ci sono scontri, la polizia sorveglia sul cavalcavia che porta al centro di accoglienza, ci sono ancora i segni.